ciao a tutti questa è la quarta e ultima lezione sugli sviluppi della letteratura a partire dal secondo dopoguerra ci occuperemo in particolare di teatro ambito nel quale ho selezionato due autori di particolare rilevanza cioè eduardo de filippo e dario fo sono due figure interessanti da un lato perché la loro produzione è nota e conosciuta in tutto il mondo e nel 97 addirittura dario fo è stato assegnato il premio nobel per la letteratura dall'altro perché tutti e due muovono i primi passi nell'ambito del teatro specificamente comico quindi una forma che tradizionalmente è ritenuta meno nobile di quello tragico di quello serio invece loro attraverso il meccanismo della risata il meccanismo umoristico sarebbe avrebbe detto pirandello riescono a proporre una riflessione abbastanza acuta sulle difficoltà che l'italia attraversa nelle rispettive epoche eduardo nell'immediato dopoguerra e dario fo negli anni della grande contestazione soprattutto alla fine degli anni sessanta e negli anni settanta la loro attività è poi interessante appunto perché nasce sulle tavole del palcoscenico ma si estende in altri ambiti artistici eduardo è stato un grande attore soprattutto al cinema oltre che per il teatro e lo stesso vale per dario fo il quale si è fatto conoscere attraverso la televisione quindi abbiamo anche una caratteristica comune tra i due rappresentata dal fatto che in qualche modo una forma d'arte considerata non alta viene veicolata attraverso i mezzi di comunicazione di massa che sono più popolari il cinema e la televisione appunto la trattazione relativa a questi due autori non farà particolare riferimento al vostro libro di testo dove sono trattati in maniera abbastanza superficiale nel complesso vi propongo di vedere questa video lezione come se fosse un documentario nel quale si tratta di storia d'italia di politica di rapporti con i mezzi di comunicazione di massa e in generale dell'arte nel suo complesso il primo personaggio di cui ci occupiamo come dicevamo è eduardo dei filippo autore teatrale grande attore grande comico vediamo ed ecco il caratteristico volto espressivo e molto scavato di eduardo dei filippo che certamente avrete visto almeno in qualche trasmissione televisiva o in qualche film eduardo nasce a napoli nell'anno 1900 figlio illegittimo cioè non riconosciuto di eduardo scarpetta infatti de filippo era il cognome della madre scarpetta era uno dei principali autori e interpreti del teatro farsesco napoletano un filone popolare di grande successo che garantiva almeno a napoli a scarpetta la condizione di vero e proprio divo quello stesso filone da cui nacque la van spettacolo e nel quale mosse i primi passi un totò scarpetta ebbe dalla stessa donna altri due figli i fratelli di eduardo peppino peppino de filippo il partner storico di totò e la sorella titina per la quale eduardo avrebbe poi scritto alcuni dei ruoli femminili più belli della sua produzione teatrale fin da bambino eduardo lavorò sulle scene teatrali in diverse compagnie per lo zio il fratello di scarpetta e per altri si ricorda che entrò anche in una delle compagnie che mise in scena i lavori di pirandello che lo notò e ne sottolineò il talento come attor giovane in seguito sarebbe diventato autore per il teatro in particolare per la propria compagnia e anche attore non soltanto a teatro ma anche al cinema a teatro la prima fase realmente significativa va dal 1931 quasi alla fine della seconda guerra mondiale eduardo fonda e diventa il capo comico della compagnia del teatro umoristico ide filippo insieme ai due fratelli titina e peppino a questo periodo risale uno dei primi capolavori natale in casa cupiello andato in scena nel 1931 in cui per sé eduardo scrive il ruolo del protagonista luca alla sorella titina fa interpretare la moglie di luca e il fratello di luca è naturalmente peppino de filippo nel dopoguerra dopo un litigio con peppino che non si sanerà mai più le due strade artistiche si divideranno irrimediabilmente la compagnia viene rielaborata cambia nome diventa il teatro di eduardo e come sede stabile viene recuperato un vecchio teatro napoletano il san ferdinando che eduardo compra e ristruttura a proprie spese per garantire fin dall'immediato dopoguerra alla città una sala dedicata ai propri spettacoli teatrali che sicuramente muovono le fila dalla farsa di cui era stato maestro scarpetta ma che nel tempo si sono evoluti fino a diventare autentiche riflessioni sul significato della vita spesso a partire dalla condizione di miseria della città di napoli a questi anni risalgono altri due testi fondamentali napoli milionaria andato in scena nel 1945 addirittura la guerra non è ancora finita quando eduardo calca le scene con napoli milionaria e filomena marturano è andato in scena nel 1946 probabilmente il testo teatrale più fortunato di eduardo che ha conosciuto traduzioni e adattamenti negli anni 50 eduardo si ritaglia un posto anche al cinema dove viene diretto da registi illustri tra cui vittorio de sicca e collabora con lo stesso totò l'attività principale certamente è quella di interpretare i propri personaggi scritti per il teatro ma non mancano performance significative anche in film altrui che niente hanno a che vedere con il teatro di eduardo da sempre come intellettuale è impegnato a sinistra negli anni 60 e 70 terrà ottimi rapporti per esempio con molti paesi di oltre cortina non è un caso e lo vedremo che le sue opere siano state anche tradotte e siano costantemente rappresentate nel panorama russo nel 1981 come riconoscimento per i meriti artistici di una vita viene nominato senatore a vita e nell'84 appunto eduardo scomparirà prima di passare ad approfondire le tre commedie che ho già menzionato cioè natale in casa cupiello napoli milionaria e filomena marturano vanno spese due parole sulla lingua di eduardo nel senso che la tradizione da cui proviene è quella del dialetto napoletano le farse di scarpetta erano in napoletano non in italiano ma in realtà in qualità di attore ed era personalmente responsabile delle proprie produzioni praticamente sempre almeno fino agli anni 70 eduardo era in grado di entrare e uscire dalla lingua napoletana ed è un dato di fatto che a seconda del pubblico che si trovava di fronte adattava il testo ricorrendo più o meno evidentemente alla dimensione del dialetto venne anche a biella recitò la prima sera in maniera piuttosto stretta fu capito poco e la sera successiva le testimonianze sono concordi andò in scena con un testo praticamente interamente in italiano noterete che i brevi spezzoni tratti da commedie di eduardo provengono tutti da allestimenti realizzati per la rai tv e questo è significativo perché la prima serie di commedie di eduardo che andrò in onda sulla rai risale al 1962 e questo davvero è interessante perché significa che all'inizio degli anni 60 la televisione di quegli anni che aveva un forte intento educativo nei confronti del suo pubblico considerava già eduardo alla stregua dei grandi del passato meritevole c'è di ottenere in prima serata un ciclo di trasmissioni alla pare di un pirandello o di un goldoni il primo testo che analizzeremo più nel dettaglio è natale in casa cupiello tutto il teatro di eduardo tutte le commedie ma il termine è usato così come lo usava già pirandello nel senso generico di testo teatrale di dramma tutte le commedie di eduardo dicevo si articolano su tre atti nel primo siamo a napoli all'antivigilia di natale luca cupiello ama le tradizioni natalizie e si dedica in modo maniacale alla realizzazione del presepe nonostante le critiche che vengono dalla moglie concetta e dal figlio tommasino che in particolare rifiuta costantemente con una specie di gag ricorrente di dargli la soddisfazione di ammettere che il presepe piace anche a lui vediamo a questo proposito un brevissimo spezzone della versione televisiva che eduardo stesso realizzò per la rai negli anni sessanta qua poi si faccio il laghetto con il pescatore con la cascata d'acqua che viene dalla montagna con l'acqua che scorre veramente l'acqua che scorre veramente e poi metto l'intero qui dietro con la cannola apre e quello scorre l'acqua e viene bene ti piace eh no ma come si può essere così salvaggia ma il presepe che è una cosa religiosa una cosa religiosa con l'intero crismo dietro ma che significa che l'intero crismo non è finito ancora come puoi dare i giudizi se non mi piace non è finito ma anche quando è finito non mi piace la situazione si fa ancora più tesa arriva in casa il fratello di luca pasqualino che è uno scapolo collerico in perenne guerra col pestifero tommasino e arriva in casa anche l'altra figlia dei cupiello ninuccia che ha litigato come accade frequentemente con il marito nicolino e confessa alla madre di volerlo lasciare per l'amante che si è trovata vittorio il quale è un amico di tommasino la madre si oppone ninuccia ha una crisi di nervi in cui mette a soccuadro l'appartamento e rovina anche il presepe del padre luca poi calmatasi promette alla madre che farà pace con il marito ma dimentica a casa cupiello la lettera con cui aveva progettato di lasciarlo il padre luca la ritrova e ignaro di tutto in buona fede la fa avere proprio a nicolino il marito della figlia ninuccia nel secondo atto siamo alla vigilia di natale tommasino che ignora la relazione della sorella con l'amico vittorio arriva a casa cupiello proprio insieme a lui concetta la madre rimane sola con vittorio e gli chiede di andarsene in quel momento tuttavia luca rincasa e insiste perché vittorio al contrario si fermi a cena e dopo una cena caratterizzata da tensioni ed equivoci ninuccia e vittorio rimangono soli non resistono alla passione e si baciano proprio in quel momento nicolino il marito di ninuccia li sorprende e accusa anche la suocera concetta di averlo ingannato vittorio e nicolino escono di casa per sfidarsi a duello e mentre concetta si dispera la tragedia si gira in farsa non conoscendo gli ultimi sviluppi luca il fratello pasqualino e il figlio tommasino entrano in scena vestiti da re magi cercando di allietare concetta che invece disperata portandole dei regali vediamo pochi secondi di questa scena in una più recente edizione che eduardo curò per la rai nel 1977 tu scendi dalle stelle nel testo Terzo atto, Luca, che è vissuto per anni nell'illusione di aver creato una famiglia felice, ha scoperto ogni cosa e ha avuto un colpo apoplettico. Si muove e parla con difficoltà, cadendo spesso in un sonno popolato da incubi che hanno come protagonista il genero Nicolino, che nel frattempo ha lasciato Napoli e la moglie Ninuccia per trasferirsi a Roma. Benché deliri, Luca spera ancora di vederlo riappacificato con la figlia, la quale vive con il rimorso di essere stata lei la causa della malattia del padre. Un medico visita Luca e ha parole di speranza per la moglie e la figlia, ma rivela al fratello Pasqualino che ormai la morte di Luca è questione di poche ore. Una improvvisa visita dell'amante di Ninuccia, Vittorio, che anche egli si sente in coppa per la malattia di Luca, provoca un delirio allucinatorio in cui Luca, malato, scambia Vittorio per Nicolino e arriva a benedire l'unione dei due amanti. Ma questo accade proprio mentre, altrettanto inaspettatamente, proprio Nicolino si ripresenta a casa Cupiello. scoppia una scena di grande tensione e gelosia in cui Nicolino è trattenuto a viva forza dagli altri familiari. Luca, ormai definitivamente perso nelle proprie allucinazioni, si avvia così a morire ignaro ancora una volta della realtà, convinto, cioè, di aver messo pace tra la figlia e il marito. Mentre per le strade di Napoli tutti stanno ormai festeggiando il Natale, sparando petardi e lanciando razzi, Tommasino, alla domanda che suo padre gli rivolge in punto di morte, te piace o presepe, alla quale egli in precedenza aveva sempre risposto di no, finalmente gli sussurra un laconico sì, proprio mentre suo padre sembra entrare in una sorta di gioiosa allucinazione di un enorme presepe dei cieli. Vediamo questo finale nell'interpretazione dello stesso Edoardo nella versione già incontrata prima, quella del 1977. Amario, Amario, ahi, amari, ahi ci fanno tutto papà, che è lì, hanno fatto, vai, ahi, ahi, hanno fatto, vai, hanno fatto, hai, è ilì, è ilì, è ilì, è ilì, è ilì, è ilì. Vieni, vesti a passi, si guarisci. Mi piace, mi piace. Mi piace. Ok? Mi piace. Mi sembra bello, bello, mi sembra bello. Mi sembra bello. Mi sembra bello. Mi sembra bello. I temi che Natale in casa Cupiello fa emergere possono essere considerati questi. La farsa diventa in realtà una riflessione amara sugli inganni della vita. La dimensione del teatro di scarpetta, fatta di equivoci e comicità anche molto fisica, sopravvive. Ma il messaggio è piuttosto amaro. I valori familiari sono una menzogna, anche se i legami affettivi in qualche modo sopravvivono. È in fondo il primo tassello di un progetto di reinterpretazione della famiglia tradizionale che Edoardo porterà avanti anche in testi di epoca successiva. Agli anni di guerra riporta invece Napoli milionaria, andato in scena nel 1945 e ambientato nel 1942. Gennaro Iovine, la moglie Amalia e i figli sono in ristrettezze economiche e per sbarcare il lunario decidono di darsi alla borsa nera, cioè al commercio illegale di prodotti di prima necessità, in particolare caffè e sigarette che a causa della guerra scarseggiano. Quando però nel corso di un controllo della polizia tutto viene messo a rischio, Gennaro dovrà fingersi morto anche se il brigadiere entrato in casa per la perquisizione intuisce il trucco. Gennaro in ogni caso finisce in carcere e la moglie Amalia si lega nel frattempo all'amico Enrico Settebelliz, mentre la figlia Maria Rosaria resta incinta di un soldato americano e il figlio Amedeo frequenta cattive compagnie con le quali progetta di diventare un ladro di automobili. Nel secondo atto Gennaro torna a casa ma ritrova una famiglia molto diversa da quella che ha lasciato, tutta concentrata sull'esteriorità, ad esempio sui festeggiamenti per il compleanno di Enrico. Tutti ripetono che la guerra è finita ma Gennaro si dice convinto sia iniziata piuttosto la guerra della povera gente che ha perso per le sciagure attraversate tutti i valori e l'onestà della vita precedente. La figlia più piccola degli Iovine, Rituccia, cade malata e morirà senza un farmaco che sembra però introvabile in tutta Napoli. Amalia, disperata, sospetta che lo tengano nascosto per farne alzare il prezzo come faceva lei stessa per le sigarette. A procurare la medicina è il ragioniere spasiano, già cliente di Amalia che lo aveva trattato in modo assolutamente disumano. Costui, benché ridotto in miseria dalle speculazioni di Amalia, possiede il farmaco perché ha dovuto usarlo per una delle sue bambine. E ad Amalia rivolge queste parole, chi prima chi dopo ognuno deve bussare alla porta dell'altro. La sofferenza, cioè, può essere di grande insegnamento e far rinascere la solidarietà tra gli uomini. La famiglia Iovine recupera una sua moralità. Il figlio Amedeo decide di smettere di rubare, la figlia Maria Rosaria resta in famiglia con il bimbo avuto dal soldato americano e la moglie Amalia si pente dei propri errori, confortata da Gennaro. La bambina assume il farmaco e si salverà se supererà la notte. Gennaro chiude la commedia con una battuta divenuta giustamente celebre. Adapassà nottata. Deve passare la notte. La battuta adapassà nottata, in effetti, si riferisce alla salute della figlia Rituccia, ma si adatta anche alla miseria della guerra. Perché nell'intera Napoli torni finalmente la salute, soprattutto quella morale, devono cessare l'egoismo e la malvagità che l'hanno avvelenata, facendo nascere questa sorta di guerra tra poveri di cui gli Iovine sono stati a un tempo vittime e carnefici. Edoardo dava alla battuta un tono di rassegnazione. Non si può far nulla, possiamo solo aspettare e potrebbe anche darsi che lo facessimo in vano. Vediamo questo finale in una versione realizzata da Edoardo per la RAI nel 1962. E in maniera simile pronuncia la battuta anche Massimo Ranieri, un altro grande interprete del teatro di Edoardo. Siamo in un adattamento realizzato per la RAI pochi anni fa. Si deve aspettare, ma bisogna aspettare. Adapassà nottata. L'espressione tuttavia viene anche intesa nel senso che prima o poi le cose torneranno necessariamente ad essere migliori. La notte deve passare perché non può non passare. Adapassà nottata. Nel 1946 Edoardo scrive e porta sulla scena Filumela Marturano, il cui ruolo principale è stato scritto appositamente per le corde della sorella Titina. Non devi prendere in contrario quello che ti dico. Buono, sì. Ti giuro che ti parlo con umiltà e con quell'attaccamento naturale che ci deve essere tra due persone che sono state vicine per tanti anni. Siamo sempre a Napoli. Nel primo atto Filumena, che è una donna matura con un passato da prostituta, è stata per venticinque anni la mantenuta di Domenico Soriano, detto Mimì, ricco pasticcere napoletano. Di fatto Filumena amministra i beni e la casa di Domenico come una vera e propria moglie e vorrebbe in effetti finalmente farsi sposare. Escogita allora un trucco. Si finge morente e coinvolgendo nell'inganno anche il prete, convince Domenico a sposarla in articulo mortis, cioè sostanzialmente nell'atto stesso in cui si muore, benché egli abbia iniziato nel frattempo una relazione con un'altra, la giovane Diana, e la ragazza viene chiamata in casa addirittura a prendersi cura di Filumena, che finge di essere moribonda e che potrà così assistere alle fusioni tra Diana e Domenico. Quando l'uomo scopre l'inganno, che cioè Filumena non è moribonda, Filumena gli rivela di avere tre figli. Vediamo questo momento della commedia in un adattamento realizzato da Edoardo sempre per la RAI negli anni Sessanta. Il ruolo di Domenico è interpretato dallo stesso Edoardo, mentre Filumena non è la sorella Titina, ma un'altra grande specialista del teatro dialettale napoletano, Regina Bianchi. Statta zitta, ma è possibile che voi altri uomini non capite mai niente? Qua denaro, Domenico, qua denaro. Conservateli con buona salute, denaro. È nata cosa che vogliate. È madaglia. Tengo tre figli, Domenico. Filumena, tu che stai dicendo? Tengo tre figli, Domenico. Mamma mia, tre figli? E ha chi i suoi figli? All'uomo come te. Domenico, ma che vuoi dire? Agli uomini come te, che significa? Perché siete tutti uguali. Mamma mia, ma... Tre figli. Dove stanno? Che fanno? Come vivono? Che denaro è tuoi. Ehi, ti ha già rubato. Ti ha rubato il denaro dentro la portafoglia, non te ne sei mai accorto. Ti vanno le vestite, le scarpe. Che l'anello con brillante ti ha ricordato? Ti dicevo che l'avevo perduto. Ma vannette. Che i denari tuoi ha già cresciuto i figli miei. Si capisce. Io avevo la ladra in casa. Mamma, la Mariola. Ma che femmine se tu. Quei ragazzi femmine. Dopo la rivelazione, Filomena caccia malamente di casa Diana e, in quanto ne è ormai la moglie, chiede a Domenico il riconoscimento della paternità dei tre giovani. Domenico, infuriato, rifiuta e si allontana con l'intento di ottenere l'allunlamento del matrimonio. Nel secondo atto, l'avvocato di Domenico, l'avvocato Nocella, lo rassicura. Il matrimonio, che è stato celebrato con l'inganno, è nullo. Filomena esprime a Domenico il proprio disprezzo e lo accusa di ingratitudine verso di lei. Racconta l'infanzia povera e infelice che l'ha portata per fame a prostituirsi. Convoca poi i suoi tre figli e rivela loro di esserne la madre. I tre rimangono sbalorditi, ma uno di loro accetta di accoglierla per il futuro nella propria casa. Rimasta poi sola con Domenico, Filomena gli rivela che uno dei tre è davvero suo figlio. Domenico non le crede, ma Filomena gli ricorda una notte in cui ella volle amarlo davvero senza che lui capisse esattamente perché. Filomena ha conservato la banconota con cui era stata pagata e su di essa ha segnato in un angolo la data del concepimento del figlio. Strappando via la parte con la data, Filomena restituisce il denaro a Domenico perché i figli non si pagano e abbandona la casa. Vediamo questo intenso finale nell'interpretazione di un'attrice non napoletana, la milanese Mariangela Melato e con Massimo Ranieri che interpreta il ruolo di Domenico. Si tratta di una versione realizzata per la RAI negli anni 2000. Devono essere uguali tutti e tre. E sono uguali, sono figli tuoi. Non li voglio vedere, non lo voglio vedere. Non li conosco, non lo conosco. Vattene, Filomena, vattene. Ti ricordi ieri quando ti dissi non giurare, non giurare che muori dannato se un giorno non mi puoi chiedere l'elemosina tu a me? Perciò te lo dissi. Stati bene Domenico. E ricordati se quello che ti ho detto lo dice ai figli miei ti uccido. Ma no, come lo dici tu. Come me l'hai detto per 25 anni. Come te lo dice Filomena Marturano. Ti uccido! Hai capito? Non lo stavo dimenticando. Ci tengo segnato un conticino mio. Un conticino che mi serve. I figli non si pagano. Nel terzo atto Domenico ha capitolato e lui e Filomena hanno deciso di sposarsi benché l'uomo ancora non sappia chi dei tre sia suo figlio. Ma Filomena non glielo dirà mai perché sa che Domenico dedicherebbe solo a lui le sue attenzioni favorendolo a scapito degli altri due e facendo nascere dissidi tra i fratelli. Se Domenico intende essere padre di suo figlio lo dovrà essere per tutti e tre indistintamente. Domenico esita a questa prospettiva e il matrimonio pare andare a monte. Convoca i tre giovani e vorrebbe spiegare loro la situazione ma si sente da questi chiamare per la prima volta papà. Commosso Domenico ammette che i figli sono figli ossia tutti uguali e sposa Filomena che per la prima volta non trattiene le lacrime. Questi i temi che emergono in Filomena Marturano. La farsa non scompare ma lascia il posto a una riflessione più seria sulle difficoltà dell'esistenza. Torna il tema della miseria della Napoli degli anni di guerra soprattutto nel disonorevole passato della protagonista che è un'ex prostituta di strada e si osserva una crisi della famiglia tradizionale ma anche la nascita di valori per così dire nuovi anche un'ex prostituta può avere cuore e dignità e ciò che viene chiamato famiglia può avere una composizione assolutamente diversa da quella tradizionale. Anche in un testo che presenta diversi aspetti comici il tema trattato è estremamente serio e come vedete ha una connotazione politica cioè l'Italia che rinasce nel dopoguerra dalle macerie della guerra dalle macerie del fascismo deve avere una mentalità più aperta. Dicevamo precedentemente che tra i testi di Edoardo probabilmente quello che ha conduto di maggior fortuna è Filumena Marturano. In effetti nel 1964 da questa commedia fu tratto un film con un titolo diverso Matrimonio all'italiana diretto da un grande regista che si era fatto un nome come avevamo visto all'epoca del neorealismo e aveva addirittura vinto un premio Oscar cioè Vittorio De Sica che rielaborò la commedia di Edoardo trasferendola negli anni contemporanei quindi spostando la vicenda agli anni 60 e scegliendo due protagonisti di straordinario fascino e carisma personale cioè Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Vediamo un breve spezzone di Matrimonio all'italiana in cui ritroverete parte delle stesse battute che abbiamo già sentito pronunciare sulle scene teatrali dagli attori che abbiamo visto prima. Ora tu mi devi dire chi dei tre è figlio mio me lo devi dire perché se no non lo so cosa può succedere. Adesso capisco perché mi hai voluto portare qua sopra il Vesuvio lo vuoi buttare? Lo vuoi sapere? E io te lo dico ma sì forse è meglio e poi così lo puoi aiutare ancora non guadagni e... O studente? Riccardo commerciante O Guantaro? No è Michelo Meccanica Ancora ancora mi vuoi mettere con le spalle in faccia o muro fino all'ultimo Ma non hai visto? Se non appena ti ho detto che ero studente subito hai cominciato a pensare ad aiutarlo a dargli i danari a quello sì e agli altri due no e allora che succederebbe? Ma tu capisci che l'interesse li metterebbe l'uno contro l'altro? Non essere egoista Domi non bonza a te non bonza a me lasciamo stare le cose come stanno e ognuno va pastra da su Fiumè io stasera prendo la macchina vado dai tuoi figli e gli dico tutta la verità io sono ricco io sono questo questo e quello uno di voi mio figlio adesso vedete tra voi chi è l'erede Domi 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 tu li devi lasciare stare non mi li devi mettere l'uno contro l'altro lasciami statti lontano da loro perché ricordati eh lasciami Fiumè ricordati che se quello che ti ho detto lo vai a dire ai figli miei io ti accido ma non come lo dici tu che me l'hai detto per vent'anni chiudi sta bocca chiudila devono essere uguali tutti e tre tutti e tre tutti e tre Fiumè stasera io ti accido guarda stasera io ti accido stasera io ti accido stasera stasera letteralmente ai quattro angoli del mondo come così soltanto per curiosità vi può dare un'idea questo breve filmato che ho preparato Fiumè e veniamo quindi a parlare di Dario Fo e della sua produzione marcatamente politica e di grande protesta nei confronti delle storture dell'Italia della fine degli anni sessanta è una visione di estrema sinistra è una visione di ultrasinistra si diceva in quegli anni con cui attraverso la risata Dario Fo vuole criticare e mettere in luce tutte le storture e le incongruenze della società capitalistica perché a suo giudizio quell'Italia assolutamente va cambiata Dario Fo nasce a San Giano in provincia di Varese molto vicino al Lago Maggiore non distante da Luino lì trascorre l'adolescenza fino a quando nel 1943 aderisce alla Repubblica Sociale Italiana cioè entra volontario nelle file dei nazi fascisti ne deriverà negli anni successivi una annosa polemica in quanto Fo nel dopoguerra si avvicinerà alla sinistra più estrema e per alcuni anni preferirà non parlare di questa esperienza giovanile che tra l'altro lo aveva portato negli anni della resistenza a partecipare al rastrellamento di alcuni partigiani ne derivò addirittura un processo che sostanzialmente Fo perse dato che la sentenza finale ribadisce che la definizione di repubblichino e rastrellatore è perfettamente legittima per chi come lui svolse quell'attività tra il 43 e il 44 nel dopoguerra tuttavia si avvicinò agli ambienti della sinistra più radicale completando la propria formazione come pittore all'accademia di Brera quindi non una formazione letteraria ma una formazione specificamente artistica in molti dei suoi spettacoli Dario Fo collaborava alle scenografie e le edizioni a stampa più prestigiose delle sue opere sono talvolta illustrate da lui negli anni 50 però scelse una carriera diversa cominciò a collaborare come autore alla radio prima a Milano poi spostandosi a Roma dove cominciò a collaborare con la televisione in quegli anni sposa Franca Rame che sarà la compagna di una vita attrice in alcuni dei suoi lavori e autrice di monologhi teatrali soprattutto dal punto di vista femminile il più importante dei quali rielabora l'esperienza traumatica di uno stupro subito per la televisione Dario Fo e Franca Rame scrivono e interpretano un gran numero di sketch comici ma nel 1962 chiamati a partecipare a Canzonissima la trasmissione di maggior successo della RAI di quegli anni finiscono nel mirino della censura per una gag in cui Dario Fo interpreta il ruolo di un industriale edilizio che rifiuta di mettere a norma i cantieri per massimizzare i propri guadagni senza preoccuparsi della salute dei muratori la direzione della RAI che in quegli anni è molto sensibile alle indicazioni governative che provengono dalla parte politica opposta a quella in cui milita Dario Fo pretendono e ottengono la cacciata della coppia dalla trasmissione negli anni 60 quindi Dario Fo e Franca Rame sono per così dire costretti a inventarsi una carriera teatrale alternativa lavorando nei collettivi che stanno cominciando a nascere cioè in forme di associazionismo spontaneo soprattutto giovanile sono i primi centri sociali e soprattutto lontano dal circuito delle sale ufficiali Dario Fo diventa l'autore e soprattutto l'interprete di testi dalla forte connotazione politica di estrema sinistra in cui emergono un forte anti-americanismo e un forte anti-clericalismo si tratta cioè di un teatro popolare di denuncia che intende criticare aspramente i fondamenti della società italiana della fine degli anni 60 Fo rivendica e amplifica la dimensione popolare e non elitaria del teatro che infatti trova posto in edifici alternativi come fabbriche di smesse o centri sociali occupati e recupera la tradizione della giullarata medievale cioè del racconto assolutamente popolare fatto da giullari cioè sostanzialmente da buffoni itineranti portatori di una cultura sviluppata unicamente attraverso la vita in mezzo al popolo e non in sede accademica e rivolta a un pubblico che ha le stesse caratteristiche l'arte spontanea e popolare dei giullari secondo Dario Fo indica la strada che il teatro italiano degli anni 60 dopo i grandi movimenti del 68 dovrebbe necessariamente prendere in polemica contro le università le accademie e il teatro ufficiale in particolare presentando se stesso e reinterpretandosi come giullare medievale Dario Fo attingerà spesso al materiale contenuto dei Vangeli Apocrifi e per rendere più universale quel messaggio fa ricorso al cosiddetto Gram Law un espediente tecnico che permetteva ai giullari del Medioevo di essere comprensibili in aree che erano linguisticamente diverse una sorta di lingua universale che ha come base un generico dialetto padano e si arricchisce di tutta una serie di espedienti espressivi fondati su versi lazi e soprattutto sulla mimica e che addirittura all'occasione può in qualche modo imitare foneticamente le lingue straniere in questo l'attore Fo eccelleva lo possiamo vedere in un breve stralcio tratto da un suo spettacolo in cui per denunciare quello che viene definito un tecnocrate inglese che tenta sostanzialmente di vendere una bomba ascoltiamo una lingua completamente inventata la cui cadenza britannica è perfetta senza che venga pronunciata una sola singola parola in quella lingua tecnocrate che comincia a esporre alcune macchine notate che c'è una leggera pronuncia tedesca dentro e di origine germana quando il giullare medievale di cui Fo si considera in qualche modo la riproposizione moderna recita non è necessario che il pubblico capisca il 100% delle parole che dice perché la mimica i suoni e un generico sostrato linguistico comune permettono comunque una comprensione più che soddisfacente i testi o per meglio dire le performance di Dario Fo sulla base di una posizione ideologica piuttosto diffusa negli ambienti dell'ultrasinistra tra la fine degli anni 60 e il decennio successivo e cioè che in realtà la risata il ridicolo sarebbe l'arma più efficace per mettere in risalto le storture della società e denunciare un potere che comunque opprime sono irresistibilmente comici e attraverso una risata liberatoria infatti che Fo vuole suscitare la riflessione e se possibile anche lo sdegno nei confronti di un'Italia che assolutamente e radicalmente va cambiata nella sua produzione vale la pena di ricordare in particolare nel 1969 il mistero buffo prima semplicemente recitato in tutta Italia in sedi cosiddette alternative e poi dato alle stampe mistero va inteso come sacra rappresentazione popolare e si tratta di un one man show in cui Fo è solo sul palco anche se tecnicamente appunto spesso non è nemmeno un palco di teatro in cui si rielaborano episodi della vita di Cristo dal punto di vista degli umili in antitesi feroce con la chiesa che è vista soltanto come una forma di potere oppressivo il papa sostanzialmente dice Dario Fo ha completamente travisato il messaggio di Cristo rivolto agli umili e non ai ricchi e aveva una dimensione comunitaria quando non addirittura comunistica da mistero buffo vediamo due brevi frammenti la polemica contro papa Bonifacio ottavo e pochi secondi della divertentissima reazione di un cieco guarito da Cristo che per la prima volta vede il mondo e si esprime attraverso l'esilarante Gramlò Padano di cui Fo era maestro Bonifacio ottavo era un papa terribile uno che era stato nominato come salvatore dello stato della chiesa e qualcuno aveva aggiunto distruttore della religione della grazia e dell'amore Dante Alighieri lo odiava al punto era nel tempo di Dante Alighieri che lo sbattè all'inferno prima ancora che morisse tanto era l'oggio che gli portava era uno che si era rubato perfino il seggio pontificio vi ricordate c'era Celestino quinto quello dolce con l'incendio delle montagne tutto spaventato Roma in questa grande città via di colonne ebbene si era seduto sul soglio pontificio un po' terrorizzato è arrivato Bonifacio ottavo Celestino guarda cos'è più o meno nel 1970 Dario Fo rappresenta e poi dà le stampe un testo di aggressiva denuncia morte accidentale di un anarchico è uno spettacolo che si riferisce alla morte di Giuseppe Pinelli un anarchico fermato dalla questura di Milano in quanto indiziato per la strage di Piazza Fontana in un interrogatorio fiume in cui non si appurò mai con sufficiente certezza che cosa accadde Pinelli cadde dalla finestra del quarto piano in cui da almeno tre giorni era sottoposto al martellante interrogatorio da parte degli uomini della questura da questo tragico episodio derivò il clima di odio diffuso perlomeno in Lombardia ma in generale in tutta Italia che portò all'omicidio nel 1972 del commissario Luigi Calabresi che era titolare di quell'inchiesta anche se probabilmente nel momento in cui Pinelli cadde o come sostenevano gli anarchici fu spinto giù dalla finestra Calabresi non era in quella stanza in morte accidentale di un anarchico non c'è Gramlò ma soltanto denuncia politica e sociale ancorché veicolata attraverso il consueto ricorso all'ironia e all'umorismo vediamo qui un frammento in cui il personaggio interpretato da Dario Fo che è il matto cioè la voce della verità in una questura che si ostina a non rivelarla fa emergere contraddizioni e incongruenze presenti nei verbali io esporrò i fatti così come voi me li avete raccontati nella stessa sequenza sapete che ne viene fuori sapete che ne uscirà scusate il termine è un po' colorito ne verrà fuori un gran casino dite una cosa e poi la ritrattate date una versione dopo due minuti ne date una completamente diversa non vi trovate nemmeno d'accordo fra di voi fra di voi almeno fra di voi date date delle dichiarazioni alla stampa alla televisione se non sbaglio di questo tenore purtroppo dei verbali non esistono coppie dei interrogatori condotti anarchico non ci sono i verbali perché non si è fatto tempo vorremmo fargli firmare ma lui e poi nemmeno nemmeno dopo due giorni salta fuori un primo verbale poi un secondo verbale poi un terzo verbale l'ultimo addirittura firmato da lui di suo pugno da vivo ma come avete fatto la produzione teatrale di Faux è estremamente copiosa e arriva in realtà fino agli anni 90 ricordiamo soltanto un unico altro titolo nel 1989 Johan Padan alla descoverta delle Americhe una riscrittura della spedizione di Colombo anche qui vista con gli occhi di un umile che non capisce la portata storica dell'evento ma spera soltanto in una sorta di riscatto sociale che gli impedisca di morire di fame nel 1997 proprio per la sua attività di feroce denuncia nei confronti del potere gli viene assegnato per la verità un po' a sorpresa il premio Nobel per la letteratura certamente l'Accademia delle Scienze di Svezia non deve aver avuto particolari problemi a comprendere il teatro di Fo perché in effetti la lingua non è nemmeno l'italiano l'obiezione può stare naturalmente nel fatto che al di là dell'interpretazione straordinaria di Fo come attore quei testi faticano a vivere di vita propria tant'è che ancora oggi vengono rappresentati ma gli interpreti moderni uno tra loro molto bravo è Claudio Bisio sostanzialmente non fanno che proporre un'imitazione del grande maestro che scusa alle questo il Camposanto il cimiterio quello che va a fare il miracolo del vincere che è morto da due tre giorni che mi pare che che dicano Lazzaro mi pare che si ama che poi arriva un santon stregunaso Iesus Cristo del sovrannome che fa due segni di essere via la tomba o salta fuori al morto con gli oggi sparliscenti spiritati e tutti che grida oh l'è vivo l'è vivo così si conclude la nostra trattazione sul teatro italiano a partire dal secondo dopoguerra nel caso specifico di Dario Fosse vi interessa potete facilmente rintracciare le versioni integrali delle opere che ho citato sia mistero buffo sia morte accidentale di un anarchico e tante altre delle sue performance in ogni caso vi farò avere qualche link diretto in questo modo abbiamo concluso il programma della classe quinta e vi auguro un'ultima volta buon lavoro